Sono ben cinque gli assessori da sostituire, considerando anche la delega di Giuseppe Provenza, dopo che i toziani sono andati via sbattendo la porta. Sono in tanti ora a cercare un assessorato. Amarezza e delusione per Michele Gioia, Francesca Napoli e Laura Toriello, che avevano messo in campo svariati progetti, che non potranno completare per il fermo obbligato imposto dalla sindaca e mal accettato dagli ex assessori. O tutti o nessuno è stato il diktat di Tozzi. E nessuno sia. Solo che ora la palla passa alla sindaca, che dovrà individuare delle professionalità competenti nei vari settori, in quanto il loro operato sarà sotto la lente di ingrandimento del popolo battipagliese, sempre molto attento e critico verso l'operato dell'amministrazione. Gianluca Di Giovanni, Pietro Cerullo, ma anche Giuseppe Salvatore e Alfonso Bardi. Potrebbero essere questi i nomi. C'è chi parla anche di un ritorno di Giuseppe Provenza.